Un saluto agli amici di Valtiberina in Forma e benvenuti alla quinta puntata di Valtiberina Calcio, programma prodotto e realizzato dalla redazione di Valtiberina in Forma. Come ogni settimana andremo ad analizzare quanto è accaduto nel weekend in riferimento alle squadre del nostro territorio partendo dalla Lega Pro ed arrivando fino ai campionati amatoriali. Tanti gli argomenti interessanti di cui parleremo con Alessio Romanelli e con l'allenatore della Capresana Riccardo Del Vecchio. Riccardo intanto è un piacere averti qua, un piacere averti dopo un bel successo di questa Capresana che continua a volare in testa alla classifica di terza categoria. Sì, in effetti ieri preciso siamo passati in testa insieme ad altre due squadre, la Tuscar e la Fortis Arezzo, in più c'è una semifinale di Coppa da giocare, penso che è meglio di così, è proprio il giorno adatto per venire in trasmissione. Non lo abbiamo fatto a casa insomma. Poi torneremo a parlare di Capresana nella pagina riservata alla terza categoria, adesso andiamo con ordine partendo dalla Lega Pro, dal pareggio conquistato dall'Arezzo in casa contro la Feralpi Salò, una partita combattuta, Alessio che l'Arezzo ha rischiato di vincere ma anche di perdere, quindi alla fine è ziolino Capuano questo punto se lo è tenuto stretto. Sì, infatti proprio nelle interviste post partita Capuano ha detto che questo punto alla fine è un buon punto conquistato perché c'è stata l'occasione più clamorosa che è quella capitata sui piedi di Montini che poi si è visto salvare la palla sulla linea ma poi negli ultimi cinque minuti questa Arezzo è stata veramente salvata da un benassi strepitoso che ha parato di tutto perché l'Arezzo era andata in difficoltà appunto nel finale. È il terzo 0-0 di questo campionato per gli Amarante, questo testimonia sì la miglior difesa del campionato con un passivo di sei reti ma anche un attacco che segna pochissimo con sole otto reti all'attivo. Infatti sono 189 minuti che gli Amaranto non ne vanno a segno però sono ancora imbattuti in casa, 16 punti in classifica, diciamoci la verità dopo dieci giornate una media che insomma fa pensare che la salvezza possa essere alla portata oggettivamente poi tutto quello che arriverà è tanto di guadagnato. Sì per ora è sicuramente un buon rullino di marcia come hai detto tu hai imbattuto in casa tre vittori e due pareggi e per costruire la salvezza è fondamentale essere una squadra solida soprattutto tra le muramiche. In testa alla classifica il Bassano con 21 punti, poi Pavia e Como con 20, Rian Vicenza con 19, Monza con 17 nel prossimo turno. L'Arezzo alle ore 14.30 di domenica farà visita all'Alessandra. Un altro match interessante perché l'Alessandra ha 14 punti e non è male come squadra. Sì è un altro match interessante dopo questo contro il Feralpi, tutte partite molto equilibrate in cui si scoprirà cosa vorrà dire l'Arezzo in questo campionato. L'Arezzo che ha pagato anche l'assenza ma comunque ha retto bene l'urto prima con un 3-5-1-1 poi passando ad altri schemi più offensivi e qui l'Arezzo ha sicuramente rischiato più di vincere che di perdere ma come diceva Alessandra insomma alla fine un buon punto. E' tornato al comunale anche Elvis Abruscato che in Amaranta ha segnato 44 gol dal 2003 al 2006. Una bella accoglienza. Un grande attaccante Riccardo Abruscato che ha ricevuto una bella accoglienza. Ti è capitato di ricevere accoglienza negli stadi e nei campi in cui ha militato? Credo di no. Ai suoi livelli no. Ecco nel mio piccolo quelle centinaia di persone c'erano. Però insomma ti hanno sempre accolto bene da dove hai giocato. Eh sì insomma. Non sempre. No a parte di scherzi no. Mi sono tolto le mie piccole soddisfazioni nei direttanti ecco. Quello assolutamente. Poi parleremo anche anche di questo per cui è modesto. Insomma Riccardo Del Vecchio nella Valtiberina è attaccante allenatore adesso ma molto conosciuto e apprezzato. In serie D è arrivata una grande vittoria per Vivi Altotevere Sansepolcro che ha battuto 3 a 0 San Giovanni Valdarno confermandosi in testa della classifica. 18 punti assieme alla Virtusse Flaminia. Alessi eravamo presenti allo stadio Buitoni. È davvero una grande partita prima di tutto perché anche la formazione di Benedetti ha giocato una bella prestazione. Però alla fine Sansepolcro di Mezzanotti ha conquistato questa importante vittoria. Sì sicuramente una gran bella partita quella di Ierel Buitoni due squadre in campo che sicuramente avranno un ruolo da protagonista in questo campionato sia il Sansepolcro sia il San Giovanni Valdarno. Diciamo che l'episodio iniziale del gol e poi l'espulsione verso la fine del primo tempo hanno condizionato un po' la partita perché diciamo che dopo il gol di Sorbini la squadra di San Giovanni era andata pericolosamente vicino al gol del pareggio. Sì poi è arrivata questa espulsione nel finale del primo tempo ma nella ripresa insomma il Sansepolcro, così continuiamo a chiamarlo, ha disputato davvero una bella prestazione, ha trovato il raddoppio e poi ha chiuso definitivamente i conti ancora con una magia di Sorbini. Il secondo gol lo ha realizzato e su sì attaccante che tutti conoscono, forte fisicamente. Posso dire che mi ricorda un po' Riccardo del Vecchio? Sono un po' più alto, poi l'abbiamo anche incontrato in amichevole quest'anno alla Pieve e insomma è una bella squadra, Sansepolcro mi ha fatto subito una bella impressione. Infatti sono contento anche per il mio amico Mezzanotti che speriamo che continui in questa maniera e sono orgoglioso anche per Sansepolcro. Ecco speriamo, sono pur sempre un tifoso della vallata in generale, ecco Sansepolcro, Baldaccio eccetera eccetera. Possiamo dire Riccardo che è un campionato molto equilibrato, ancora mancano tante partite, il Sansepolcro continua a mantenere un profilo basso, però insomma detta di molti può recitare un ruolo importante anche nei piani alti della classifica, come la pensi? Sì credo che il Sansepolcro, la forza del Sansepolcro sia soprattutto i giovani, cioè credo che i giovani come lavora il settore giovanile, il Sansepolcro sono credo poche in Italia, proprio voglio esagerare ma tra l'altro c'è anche mio figlio che è piccolo ma vedo che insomma lavora veramente bene. Quindi la differenza quando adesso non so quanti giovani ci sono in campo obbligatori, sei, cinque, sei, mi sembra, credo che sia quella. Poi Sansepolcro è bravo nell'azzeccare i cosiddetti anziani, parliamo infatti di Sussi, parliamo di Sorbini, parliamo di Alagia che tra l'altro il fratello gioca con noi e quindi sono molto bravi nel muoversi nel mercato soprattutto con gli anziani. Se non direi che questa politica dei giovani insomma ti interessa da vicino perché tu sei un allenatore che ha lanciato diversi giovani e mi ricordo anche quando eri alla Baldaccio, insomma di questo te ne do sempre merito. Sì no, diciamo che è un lavoro che sto cercando di fare anche qui a Caprese, io ricordo che quando ho allenato tre anni la Baldaccio Bruni eravamo l'80% di Anghiari quindi infatti anche quest'anno a Caprese su 22 della Rosa 14 sono di Caprese e questo è importante credo per il paese dove lavori, dove alleni. Poi torneremo a parlare di Sansepolcro e di Trestin, adesso andiamo a sentirci le interviste realizzate nel post partita di Sansepolcro San Giovanni Valdarno. Quanto vale questa vittoria mister considerando anche il valore del San Giovannese? Ma un valore inestimabile perché come ho detto prima sapevamo di incontrare una squadra buona se non ottima e lo dimostrano i risultati sul campo. Avere vinto in maniera così abbastanza netta come numeri ci dà ovviamente tanta fiducia e tanta autostima. Anche perché la squadra sembra matura comunque, è vero che l'obiettivo resta la salvezza però è una squadra matura oltre che forte. Beh direi di sì ma questa squadra l'abbiamo vista crescere insieme al mister, a Davide Mezzanotti, dal primo giorno di ritiro abbiamo visto che ha avuto una crescita direi esponenziale e speriamo che non si interrompa, tutto qui quello che devo dire. Mister Benedetti sconfitta pesante nel punteggio però a mio parere la San Giovannese soprattutto nel primo tempo ha disputato una buona prestazione. Secondo me il risultato non giustifica la prestazione che abbiamo fatto e soprattutto nel primo tempo la mia squadra ha fatto bene. Purtroppo ci siamo fatti sorprendere dopo pochi minuti dentro l'area di rigore, abbiamo seguito bene la marcatura, c'è stato un rimpallo dove probabilmente siano stati un po' molli. Poi però abbiamo sempre fatto la partita, potevamo rimediarla immediatamente con Petriccione, non siamo riusciti a far gol. Però ecco il primo tempo la mia squadra aveva dimostrato di avere l'atteggiamento giusto, di giocare a buona intensità e poi è chiaro che con l'espulsione considerando l'avversario di fronte diventa tutto più difficile perché incontravamo una squadra che è molto brava a difendersi, molto brava a ripartire, molto brava a chiudere gli spazi quindi poi diventa tutto più difficile. Nonostante questo abbiamo provato comunque anche con l'uomo in meno a rischiare qualcosa, poi è chiaro che qualcosa nelle ripartenze si concede. Intanto complimenti, sei stato il grande protagonista con questa bellissima doppietta. Sì, sono contento della prestazione della squadra, la mia prestazione ha contribuito a far sì che il Sansepolcro vincesse questa partita importante che all'inizio, anzi no all'inizio, è stata una partita molto difficile contro una squadra ben organizzata, stato fida da Torci anche in 10. L'avete preparata nel modo giusto e i risultati vi hanno dato ragione? Sì, sapevamo che è una squadra tatticamente simile a noi, molto aggressivi, corrono tutti, si aiutano. L'episodio sicuramente ci ha vantaggiato, il mio colpo di testa quando ho fatto il gol è andata bene, anche loro hanno avuto occasione, l'hanno sfruttato e è andata bene così per noi. La legge dell'ex ha colpito e ti ha, diciamo così, basciato questo oggi? Sì, tenevo un particolar modo a fare una grossa prestazione oggi, sia perché fino ad oggi non è che ho fatto granché, però avevo un mio amico che è un ultra della San Giovannese, mi aveva detto fai una grossa partita per me. Lui era un tifoso da San Giovannese e spero di averlo fatto. La seconda vittoria consecutiva, Alessio, per Vivalto Tevere e San Sepolcro, si conferma in battuta così come il Poggi Bonzi, possiamo dire che è arrivata una risposta importante anche sotto il profilo caratteriale? Sì, sì, sicuramente quello di ieri è stato un San Sepolcro veramente convincente, oltre che vincente perché, come hai detto tu, una bella prova di carattere, un 3-0 contro una formazione che è veramente forte perché ricordiamo che il San Giovanni Valdarno ha militato per molti anni anche in categorie superiori. San Sepolcro 18 punti, prima in classifica come il Virtus Flaminia. E domenica prossima? E domenica prossima c'è questo sconto diretto che vedrà le prime due squadre di questo girone E della Serie D che si scontreranno e quindi una gran bella partita. Non va bene invece per il Trestina che ha incassato un'altra sconfitta, 2-1 in casa contro il Poggi Bonzi che ricordavamo è imbattuta in questo girone così come il San Sepolcro, non è bastato il gol di Sciapi, insomma, tre rigori, ci sono stati tante polemiche anche. Sì, è arrivata la settima sconfitta stagionale per il Trestina che rimane purtroppo ferma a quota tre punti al penultimo posto e l'unica nota positiva se proprio vogliamo trovarla è questo primo gol di Sciapi che è questo nuovo acquisto che è andato ad infoltire una rosa che diciamo con gli infortuni di Mancini e Manuali soprattutto in attacco aveva delle mancanze. Quindi speriamo che questo ragazzo possa dare uno scossone a questo Trestina la cui situazione adesso si fa abbastanza difficile. Trestina sicuramente non mollerà perché è una squadra, è una realtà che ama lottare e che si esalta anche nella lotta. Possiamo dire che oltre agli infortuni che dicevi anche quello di Nicola Ceccagnoli, poi di Pulito durante la partita insomma piove sul bagnato possiamo dire. Sì, sicuramente è un Trestina che è anche sfortunato perché molti infortuni e speriamo che col tempo la fortuna insomma giri un po' anche dalla parte dei ragazzi di Valori. Nel prossimo turno la trasferta contro la Pianese, dobbiamo dire che il Trestina fuori casa finora ha sempre perso, ci auguriamo che magari il cambio di rotta possa arrivare fino al prossimo impegno. La Virtus Flaminia capolista assieme a Vivi Alto Tevere e Sansepolcro ha battuto per 2-1 il Sandonato, mentre per Ponsacco e Siena è arrivato un pareggio insomma in questo scontro diretto, pareggio anche per il Foligno, mentre la Massesa ha conquistato una importante vittoria contro il Gavorrano. Insomma Riccardo tante piazze importanti, i nomi altisonanti in questo gironi. Sì, in effetti sono tutti bei campi, belle squadre, società importanti, quindi molto difficile ecco. E allora in bocca al lupo alle nostre, scendiamo in eccellenza partendo dall'eccellenza Umbra, bella la vittoria della città di Castello per 3-2 sul campo della Ponte Vecchio, gol di vent'anni e doppietta di Pagliardini, la terza vittoria di fila per la formazione di Cerbella che sale al terzo posto della classifica con 17 punti e con vista sul primato della gradatoria. Eh sì, ha approfittato appunto dello scontro diretto che c'era in vetta tra Subasio e Todi, nel quale la capolista Subasio ha perso in casa per 2-0 contro il Todi, quindi si è un po' accorciata la classifica e il città di Castello si trova a soli due punti dalla vetta. Eh una bella vittoria, la terza consecutiva sembra che dopo dopo aver sfatato anche il tabù il tabù Bernicchi sia sia finalmente stato trovato l'equilibrio giusto per far bene e con quei giocatori, soprattutto là davanti, questo penso che l'obiettivo principale della squadra sia quello di lottare per questi piani alti. È stata la quinta vittoria stagionale sulle otto partite disputate per il città di Castello che possiede il miglior attacco del girone con 18 gol realizzati, mentre nello scontro diretto che ricordava Alessio decisiva è stata la doppietta di Tascini, insomma non ha segnato Tarpani ma il bomber è arrivato in questa giornata e il Todi tra l'altro si è rialzato dopo due sconfitte consecutive. Sì, diciamo che queste tre squadre sono quelle sicuramente destinate secondo me fino all'ultimo a giocarsi questo primo posto e secondo me per adesso non c'è nessuna favorita, vedremo col tempo. Nel prossimo turno il città di Castello tornerà al Bernicchi contro l'Annarnese, una partita sicuramente complicata contro una squadra che nell'ultimo turno ha perso ma che comunque ha 14 punti in classifica e che è una delle formazioni sulla carta più attrezzate di questo girone. Per le altre squadre di vertice, l'impegno esterno per quello che riguarda la subase sul campo del Sanzisto, mentre il Todi ospiterà il Nocera Umbra. Sempre in eccellenza si rimane, si passa però in Toscana con il positivo pareggio esterno della Baldaccio Bruni sul campo della Sestese, due gol arrivati su palla inattiva per quello che riguarda la formazione di Sesto Fiorentino l'ha segnata Francini, poi la Baldaccio al settantottesimo ha raggiunto il pareggio grazie ad un colpo di testa del giovane Redi che ha così realizzato il primo gol stagionale. Baldaccio che sale a quota 13, primo pareggio in questo campionato e accorcia sulla Rignanese che ha incassato i primi gol sul campo e che ha subito la prima sconfitta effettiva, quindi possiamo dire che è andata bene per la Baldaccio, ovviamente anche se non è arrivata la vittoria. Sì è andata bene, però ci sarà sicuramente quel pizzico di rammarico perché era un'occasione veramente da sfruttare, perché la Rignanese era stata fermata e la Baldaccio ha avuto anche molte occasioni, quindi ci sarà sicuramente un pizzico di rammarico nonostante sia stato un pareggio che ci può stare. Riccardo, guarda se ottiene un pareggio così, con tante occasioni non concretizzate, però si guadagna punti sulle dirette rivali, perlomeno attualmente in classifica, si deve essere soddisfatti o no? Te lo chiedo da allenatore. No, io penso che il sesto Fiorentino è un campo difficilissimo, piccolo, stretto, insomma non è facile andare a fare risultato, però per questa occasione è persa perché nessuno si aspettava che la Rignanese perdesse in casa col figlino, ecco, quindi, insomma, forse un punto guadagnato e due punti persi, cioè diciamo facciamo un misto però dispiace, ecco, se veramente meritava, però mi sembra che era sotto la Baldaccio, quindi alla fine si deve accontentare del pareggio che insomma fa sempre classifica e morale, accorciato i due punti, insomma, dai. Infatti ho parlato con il mister Marmorino, era soddisfatto per la prestazione e per la reazione anche caratteriale, ovviamente ha detto nel finale abbiamo messo sotto gli avversari e potevamo cercare, diciamo, di sfruttare meglio le occasioni, però è un buon punto. Da ricordare l'infortunio di Badì che è uscito dopo pochi minuti del primo tempo, appena 18, partita che è rimasta ferma per quasi mezz'ora perché lo sfortunato difensore della Baldaccio si è lussato la spalla, insomma, nulla di grave, però dovrà fare accertamenti per capire meglio la situazione. Riccardo, la Baldaccio Bruni è una squadra costruita per recitare un ruolo importante in questo campionato, tu un campionato che tra l'altro conosci perché ci hai allenato anche. Sì, diciamo che la Baldaccio negli ultimi anni ha sempre creato delle squadre importanti, però guarda l'eccellenza, l'ho allenata tra i quattro anni, è un campionato difficilissimo, nel senso che devi sempre essere in partita tutte le domeniche perché se no, come molli in attimino, cali sotto qualsiasi aspetto fisico o tattico, subito le paghi perché anche queste piccole, le ultime che sono in fondo, lavorano bene, in poche parole ci sono società importanti, leggo ancora, le conosco quasi tutte, Fogliano, Castiglionese, Castelnuovo, quindi sono tutte società che lavorano, addirittura si allenano di pomeriggio, quindi migliorano settimana dopo settimana, quindi è un campionato difficilissimo che dimostra appunto la Rignanese, è vero che il Figline adesso non so esattamente, no insomma è medio alta classifica, quindi ogni domenica puoi perdere anche con l'ultima in classifica se non sei concentrato, determinato e se pensi di aver vinto ancora prima di giocarle, quindi, e niente, speriamo che la Baldaccio sia l'anno buono per salire di categoria e magari vediamo un bel derby con, ah no, con Sansepolcro no, perché gli auguriamo di salire? Di salire, via, no dai, sono tutti amici, quindi speriamo veramente, sono un tifoso, ripeto come dicevo prima, di tutta la ballata in generale. Anche perché Riccardo, la maglia bianco-verde, credo che ti sia rimasto un po' nella pelle, perché tanti anni ci hai militato, hai fatto tanti gol da attaccante prima e poi anche da allenatore hai recitato un bel ruolo. Cioè, dieci anni penso che non sia un po' chi, ecco, quindi veramente, sono stato veramente bene che ringrazio tuttora, ecco, per quei dieci anni stupendi che ho passato a Anghiari. La prima categoria è l'eccellenza, se non sbaglio. Sì, sì, in effetti abbiamo vinto tutta la prima categoria, poi abbiamo scalato le categorie, ci siamo divertiti, divertiti veramente, un bel paese, un bel tifo, eccetera, eccetera. Quanti gol hai fatto con la maglia bianco-verde, più o meno? Guarda, sai che non ho una domanda complicata. Cento, perché me li contava un giornalista, cento, penso di esserci arrivato, ecco. A proposito dei gol, l'importante è stato quello di Vangi del Figline, che, come abbiamo detto, dopo 620 minuti ha interrotto l'imbattibilità sul campo della Rignanese. Figline, che tra l'altro è squadra importante da tenere d'occhio. Prossimo turno, la Baldaccio se la vedrà in casa contro il Quarrata Olimpia, che riduce da l'1 a 1 sul campo della Bucinese. Promozione Umbra, Alessio, e qui arrivano risultati altalenanti, perché le vittorie della Virtus San Giustino e del Lama nel derby contro la Madonna del Latte, però anche le sconfitte pesanti del San Lorenzo Lerchi e il pari del San Secondo, diciamo così, sono risultati che soddisfano fino a un certo punto. Sì, sorprende, cioè il risultato che sorprende di più, insomma, è quello del maturato nel derby tra Madonna del Latte e Lama, uno 0-4 che ha del clamoroso, insomma, perché in un derby non è mai facile imporsi con un risultato così pesante. Un buon Lama che dopo quattro pareggi consecutivi torna quindi alla vittoria, è arrivata la quarta rete di Gabriele Bartolucci, quattordici punti, quindi penso che questo Lama si possa candidare per un ruolo da protagonista in questo campionato, quantomeno inseguendo un buon piazzamento nei play-off. Buono per adesso anche il cammino del San Giustino, dopo una partenza un po' difficile, ha trovato la seconda vittoria consecutiva in casa, grazie all'1-0 di Belloni, frena un po' il Real Pitulum che si fa sorpassare in vetta dal Trasimeno, e il Real Pitulum che pareggia 1-1 nel derby contro la Pietralunghese, e comunque rimane al secondo posto a meno 2 da appunto la capolista Trasimeno. Gol che è arrivato tra l'altro nel finale, quindi in questo caso pareggio in rimonta, possiamo interpretarlo come positivo, il Real Pitulum che scende appunto al secondo posto con 16 punti, mentre la Madonna del Latte si conferma in un momentaccio, la terza Coppa O di fila rimane ferma a quota 9 punti, e soprattutto non segna da 275 minuti, quindi tanti problemi in attacco. Ci dispiace anche dover segnalare il K.O. del San Lorenzo Lerchi, un K.O. pesante, perché 4-1 sul campo della Pievese, la formazione di migliorati rimane ferma a quota 14 punti, ed incassa il secondo K.O. esterno consecutivo, mentre per il San Secondo è arrivato un pareggio a reti inviolate, contro il Ponte Valleceppi in trasferta, e la formazione di Lacrimini sale a quota 11. Nel prossimo turno sarà il derby tra Lama e Pietralunghese, poi Real Pitulum-Tiberis contro Pievese, San Lorenzo Lerchi contro Ponte Valleceppi, Corciano-Virtus-San Giustino, San Secondo-Marra-San Feliciano, Valfabbrica-Madonna del Latte, mentre la capolista Trasimeno giocherà in casa, contro la Ivis-Casa del Diavolo. Possiamo dire che la formazione di mister migliorati è incappata in una brutta sconfitta? Sì, come hai detto tu, è la seconda sconfitta consecutiva fuori da Lerchi, e dopo i tre gol incassati a Marra-San Feliciano, quattro gol anche nel campo della Pievese, qualche problemino quindi quando si gioca in trasferta, comunque può essere una sconfitta che riporta un po' con i piedi per terra anche la formazione di migliorati che era partita in modo sorprendente. Valerio Belloni decisivo nella vittoria della Virtus, lo hai allenato se non sbaglio Riccardo? Sì, sì, l'ho allenato diversi anni, era giovane, però vedo che migliora anno per anno, quindi ormai sono anni che faceva gol da giovani, figuriamoci adesso, quindi bene, bene, bene per lui. Scendendo in prima categoria toscana, bene la Sulpizia che vince 3-2 in casa contro il Cesa, tripletta di Boncompagni che si è quindi sbloccato, una partita che si era messa bene, poi insomma nel finale la formazione di Piave Santo Stefano ha rischiato di complicarsi la vita. Sulpizia che sale al quarto posto con 10 punti ottiene la terza vittoria casalinga consecutiva su altrettante gare, decisivo quindi Boncompagni, un altro giocatore che conosci. Sì, diciamo che l'ho allenato tre anni mi sembra, questo è un giocatore che quando vuole da solo vince le partite, dai, cioè per quelle categorie lì lui ancora secondo me può fare l'eccellenza, la grande, se si allena anche forse anche a Sansepolcro potrebbe far comodo, quindi... Un animale d'aria di rigore possiamo definirlo. Sì, sì, è proprio, è bravo, 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 ecco. Il prossimo turno trasferta sul campo dell'Olmo Ponte per la Sulpizia mentre in testa la classifica Olympic Sansovino sta volando un'altra vittoria. Eh sì, 18 punti per l'Olympic Sansovino, comunque due parole anche su questa sulpizia che il Presidente quando è intervenuto in trasmissione nelle puntate precedenti ci aveva detto che i punti salvezza principali li dovevano ottenere in casa e per ora tre vittorie consecutive, quindi buon rullino di marcia. Tempo vuola, transitiamo velocemente dalla prima categoria Umbra perché c'è stato il pareggio per 1-1 nel derby tra Montone e Selcinardi, per il Montone quarto risultato utile consecutivo, nove punti in classifica, per il Selcin è arrivato il secondo punto esterno e il secondo risultato utile, sei punti in classifica, prima vittoria stagionale per il Monte Castelli che ha violato per 3-2 il campo del Grifo Cannara e salita quota sette punti in classifica riscattando insomma gli ultimi risultati negativi. Male invece Vial di Pierle che ha perso sul campo del Viole rimane all'ultimo posto in classifica. Da segnalare che la capolista San Terminio ha vinto 2-1 con il Piccione portandosi a quota 22, sette vittorie e un pareggio, quindi una candidatura più che seria per quello che riguarda la vittoria del campionato. Nel prossimo turno il derby Valdipierle-Montone, Selcinardi impegnato con il Pianello, Monte Castelli-Fontanelle-Branca, mentre la capolista San Terminio sarà di scena sul campo della nuova Fulginium. Male, Alessio in seconda categoria toscana perché Monterchiese e Palazzo del Piero hanno rimediato due sconfitte piuttosto pesanti, 4-1 alla Monterchiese contro Fratti Icciola in trasferta. Palazzo del Piero 3-1 in casa contro il Fratta Santa Caterina. Stanno faticando più del previsto forse queste due neopromosse in questo girone di seconda categoria toscana. quattro gol incassati dalla Monterchiese che era riuscita ad andare sul punteggio di 1-1 grazie alla rete di Cecchetti, poi però nel finale ha sprofondato e ha subito altre tre reti, mentre il Palazzo del Piero ha subito tre gol in casa. Quindi faticano molto le nostre formazioni in questo campionato con la Monterchiese che rimane a quattro e il Palazzo ha soli due punti. Rispettivamente terz'ultima e penultima in testa un'altra squadra che sembra voler ammazzare il campionato il Tegoleto che ha vinto 2-1 contro lo Spojano sei vittorie su altrettante gare. Nel prossimo turno Arezzo Football Academy contro Monterchiese e Spojano Palazzo del Piero mentre il Tegoleto se la vedrà con il Chianciano. Velocissimamente anche per quello che riguarda la seconda categoria Umbra perché è arrivata la prima sconfitta stagionale per il Calzolaro che ha perso 4-3 contro il Sigillo al termine di una gara sicuramente emozionante e coinvolgente. La formazione resta ferma a quota 19 superata dal Pontevilla che di punti ora ne ha 20 dopo il successo conquistato contro il Parlesca. Una battuta dal resto che deve far riflettere. Sì, la prima sconfitta stagionale per il Calzolaro che se mi passi il termine sembra una squadra di Zeman perché ha segnato 21 reti ma ne ha subite anche 11 quindi forse c'è qualcosina da aggiustare nel reparto difensivo. Bel successo invece per il Cerbara che ha battuto 2-0 in trasferta il Monte Acuto terzo posto in classifica con 14 punti pari esterno per il Promano sul campo del Ponte D'Assi K.O. per l'Artiglio Pistrino 1-0 sul campo del Morano possiamo dire Promano a 9 punti mentre l'Artiglio Pistrino a quota 10 San Giustino sconfitto pesantemente sul campo del Ramazzano per Entorio 4-0 la formazione san giustinese che resta ferma a quota 9 pari esterno per il Cosmos Pierantonio 2-2 sul campo del Mantignana e 7 punti in classifica ed ora arriviamo finalmente a parlare della terza categoria perché si è arrivato il primo K.O. per quello che riguarda l'Ercolano e la squadra di Monterchi è arrivato invece un altro bel successo per la capresana di Riccardo Del Vecchio trascinata dal solito Simone Dori Sì, effettivamente ieri una diciamo bisogna essere onesti no, bella vittoria nel senso che abbiamo giocato non bene bene probabilmente ci siamo adattati un pochino all'avversario però diciamo primo tempo 2-0 dopodiché ci siamo complicati la vita agli ultimi 5 minuti abbiamo preso questo 2-1 perché veramente non lo so non so il perché e poi Dori ha subito chiuso la partita un minuto dopo quindi insomma ci ha fatto rilassare un pochino sicuramente questo Dori in questa categoria come dicevo di buon compagni in prima categoria ecco però lui è capresano doc diciamo che quindi ci sta bene ecco 13 punti in classifica primato condiviso con la Tuscar e con Fortis Arezzo ci credete? Sì diciamo di sì anche se per ora abbiamo fatto più di quello che ci aspettavamo onestamente il nostro obiettivo quest'anno è ricostruire la società dopo 15 anni e diciamo che ci stiamo riuscendo bene cioè tu calcola che una società che va in trasferta in pulma in terza categoria mangia in casa mangia fuori casa c'ha la lavanderia che lava tutto penso che solo Sansepolcro sia e l'abbaldaccio siano attrezzate in questa maniera quindi ecco le attrezzature ci sono quindi pian pianino speriamo di ecco di crescere i risultati se vengono quest'anno bene però credo che sia puntato a ottenere risultati negli anni ecco quindi però per ora dice bene speriamo c'era tanta voglia di calcio Caprese possiamo dire dopo tanto periodo lungo periodo di assenza insomma di platee diciamo così di FGC sì sì guarda vedere cento persone circa a vedere una partita di terza categoria con fumogeni petardi eccetera eccetera a volte non mi è capitato nemmeno in eccellenza di vederle quindi l'obiettivo dei fratelli viciani che sono loro i promotori presidente vicepresidente per ora ecco bisogna dire bravi a loro ecco che gruppo è Riccardo? è un gruppo ripeto sono 22 ragazzi diciamo 14 come dicevo prima di Caprese e questo è l'orgoglio principale poi si sono aggiunti questi purtroppo per il fallimento del Santa Fiora o come si chiamava l'anno scorso Sansepolcro FC ecco è veramente una banda di matti in questa maniera però matti positivi perché sanno divertirsi cioè ci divertiamo sicuramente ci dobbiamo divertire perché pur sempre uno sport qualsiasi categoria ci sia però sappiamo divertirci fuori dal campo e quando si lavora veramente sono dei professionisti veramente seri non mancano mai gli allenamenti veramente faccio dei complimenti in diretta anche a questi ragazzi ci sarà anche tra l'altro ad anno nuovo un importante appuntamento perché siete nella semifinale di Coppa insomma alla fine è un altro bel risultato sì siamo anche in semifinale di Coppa quindi ripeto meglio di così poi è su partita partita secca si dice sì ecco quindi diciamo che sono due partite dove uno vince queste due partite si trova in seconda categoria direttamente ah dimenticavo il mio preparatore dei portieri Ghirelli Paolo anche questa è una grossa mancanza perché Ghirelli no per questi ragazzi lui per tenere il gruppo alla grande lui sarebbe il mio secondo portiere e in più il preparatore diciamo che ripeto fuori dal campo lo conosciamo tutti è simpaticissimo però quando lavora siamo anche noi Paolo Ghirelli che insomma è un amico è veramente un personaggio che ci fa sempre piacere vedere nel mondo del calcio possiamo dire così Riccardo una curiosità perché tu sei allenatore grande attaccante come ricordavo prima in passato le tue squadre però puntano sempre a non prendere gol come prima cosa è un po' una stranezza me la passi questa è una stranezza anche quest'anno diciamo che il modulo è 5-4-1 quindi però vedi che i gol li facciamo anche ieri tre gol cioè abbiamo fatto diversi gol ci troviamo in testa la classifica allora qualcosa non quadra in questo calcio che comunque adesso a parte gli scherzi io credo che non è la questione di moduli di numeri detti in questa maniera credo che sia l'atteggiamento dei giocatori perché per dire un 5-4-1 quando noi attacchiamo possiamo parlarlo parlare di 3-4-3 perché rispondono tra i difensori e i terzini salgono cioè adesso per parlare velocemente quindi è l'atteggiamento se i nostri terzini non salgono è chiaro che siamo una difesa a 5 però credo che nel gioco del calcio ci sono due fasi quando hai la palla e quando non ce l'hai quando non ce l'hai devi chiudere difendere e stare uniti e corti e quando invece abbiamo la palla bisogna allargarsi attaccare eccetera eccetera quindi a volte riesce a volte no quindi siamo noi che sono loro i giocatori che creano i moduli credo quindi assolutamente d'accordo per chiudere la parentesi insomma piacevole su questa capresana che ci fa molto piacere ritrovare nel calcio FGC possiamo dire che domenica prossima sarà una grande partita perché scontro diretto con la Tuscar sarà un test primo test probante sì in effetti tutti quanti per vedere effettivamente il nostro valore al di là che l'abbiamo credo dimostrato anche contro la Fortis Juventus che l'abbiamo battuta in Coppa 2 a 1 eliminando subito gol e ancora mi sembra che non ha subito ha subito 0 gol sia in Coppa che quindi e lì era già un banco di prova e abbiamo visto che insomma siamo stati abbastanza bravi e abbiamo battuti bene quindi però dice che questa questa Tuscar insomma sia ecco vi aspettiamo tutti a caprese domenica a vedere questa partita è importante in bocca al lupo alla Capresana per la domenica prossima passo il microfono ad Alessio Romanelli per una veloce perché il tempo purtroppo è sempre sempre tiranno panoramica sul calcio amatoriale sì come ogni come ogni puntata andiamo a fare questa veloce panoramica sui campionati amatoriali Wisp della circoscrizione di Arezzo partiamo dall'eccellenza Gironea si è giocata la quarta giornata è arrivato il secondo pareggio consecutivo per l'Asa Calcianghiari che pareggia la rete inviolate nel campo del ciclone brutta sconfitta casalinga invece per il Gragnano che perde per 3 a 1 contro la Chiazza inutile la rete dei locali di Lacrimini pareggio amaro diciamo anche per i New Old Boca che impattano per 2 a 2 nel proprio campo contro l'Ajax 86 doppietta di Saracino che sale a quota a 4 reti stagionali brutta sconfitta anche per il Barchi alloscuro che perde per 5 a 1 nel campo dello Ciao Club inutile anche qua la rete di Donati in testa alla classifica rimangono sempre Ase e New Old Boca nonostante i due pareggi però vengono raggiunti anche dalle Logge Club tutte queste tre squadre sono a quota 6 mentre Barchi alloscuro e Criscignano restano rispettivamente a quota 5 e a quota 3 punti nel prossimo turno interessante il match tra Barchi alloscuro e Logge Club poi Corsalone contro New Old Boca Stella Azzura Gragnano e Asacalcio Chiasa scendiamo in prima divisione Girone A bellissima vittoria con un risultato tennistico del Griscignano che si impone per 6 a 0 nel proprio campo contro il Badia Prataglia doppietta di Marcianò poi Del Pia Bertelli Tarducci e Appiani regalano una bella vittoria alla squadra di Griscignano il derby invece tra Lions San Leo e Banco Latino si conclude senza né vincitori ne vinti 2 a 2 per i locali Casi e l'autorete di Olivieri mentre per gli ospiti doppietta di Merendelli Banco Latino che rimane in testa alla classifica raggiunto anche dal quartiere Porta Sant'Andrea a 7 punti Griscignano a 4 Lions fermo a 2 con una partita in meno nel prossimo turno altro derby quello tra Griscignano e Lions San Leo mentre per il Banco Latino impegno casalingo contro il Ponte Buriano ci spostiamo nel girone B sempre quarta giornata di campionato seconda vittoria consecutiva per la Fratras Monterchi che nel proprio campo vince 3 a 2 contro l'Arezzo United e si porta così al secondo posto a quota 6 punti assieme a Giostre e Drunken Lions primo in classifica l'Arezzo Est a quota la Fratras Monterchi ospiterà ancora in casa l'Ultramonte scendiamo in seconda divisione girone A dove la Motina incappa in un brutto K.O. casalingo contro la formazione del Falciano inutile qua la rete del momentaneo pareggio di acquisti Gabriele qui comanda la classifica il Casentino a 7 punti mentre la Motina rimane ferma a 4 nel prossimo turno ci sarà Motina Puglia Club diciamo che è stato un turno non positivo per quello che riguarda le nostre squadre in eccellenza con Lasa e Nolboca che hanno pareggiato che comunque però rimangono in testa classifica mentre Bruschi stop per Gragnano e Bar chiaroscura grazie Aless possiamo dire che Delveccio ancora continua a segnare golle in questo campionato leggendo adesso io gioco nel campionato della Motina abbiamo vinto 3 a 2 ma non so con chi gioco non si ricorda il nome della squadra però hai fatto gol chi è che ha vinto sì ho fatto due gol perdavamo 2 a 0 il primo tempo abbiamo vinto il secondo tempo 3 a 2 ma non so come si chiama la squadra pensate vado proprio a livelli io vado gioco con chi c'è testimonia che ancora insomma il marcatore mi ha chiesto a un certo punto ma quanti anni hai io ho detto 47 madonna ragazzi ma posso scusa aggiungere mi sono dimenticato che la Capresana nasce grazie ai due fratelli Viciani e che sono presidente e vicepresidente e poi Gianpaolo che è il proprietario del Boschetto ristorante pizzeria e ecco grazie a questi tre personaggi hanno ricostruito questa Capresana ecco stavo fatto un errore grave scusa Gianpaolo ti sei ripreso in corne no no infatti è un errore gravissimo perché Gianpaolo è un personaggio ganzissimo bene comunque ancora del vecchio continua ad andare nei campi a fare gol mentre Alessio mi ha detto che domenica sabato ha fatto un quasi gol quindi che vuol dire quasi gol meglio meglio non dirlo come è andata la dinamica di questa autorete via va bene siamo arrivati nel finale sarebbe sempre tanto da parlare perché tanti sono i campionati tante sono le squadre tante anche la nostra passione nel portare avanti questa trasmissione ma purtroppo c'è Massimiliano Bruni che mi sta facendo gestacci perché siamo arrivati in conclusione vi ricordo che la trasmissione è visibile sul sito inter infatti Berina Informa nell'apposita sezione della web tv e fino al prossimo turno di campionato quindi diciamo fino al sabato la trasmissione la potete vedere poi anche per riguardare le precedenti basta entrare nell'apposita sezione e ricercarsela noi vi aspettiamo per il prossimo appuntamento settimana ventura ancora con Valtiberina Calcio io saluto Alessio Romanelli grazie a tutti alla prossima saluto ringrazio e faccio un grosso in bocca al lupo a Riccardo Del Vecchio e la sua capresana crepi buonasera a tutti grazie alla prossima alla prossima alla prossima grazie a tutti